Buon giovedì, puntata extra, però oggi anche sostitutiva del podcast perché sono successe già diverse cose. Vi rimandiamo alla puntata di ieri per tutti gli approfondimenti su quanto accaduto in sede di presentazione di campagne abbonamenti. Oggi ovviamente la scena se la prendono i calendari di Serie A e in particolare il calendario del Genoa. Un calendario che offre subito uno spunto interessante perché sarà subito sfida all'ex Josep Martinez che oggi sta sostenendo le visite mediche a Milano con l'Inter che più probabilmente domani però comunque entro la fine di questa settimana diventerà ufficialmente un giocatore nerazzurro. I documenti già ieri le società se li stavano scambiando quindi è solo una questione di ore. Il Genoa perderà il suo portiere, operazione da 16 milioni e la prima giornata di campionato sarà proprio Genoa-Inter. Tanti, compresi noi, ci aspettavamo l'inizio del Genoa fuori casa perché solitamente si assicura un'alternanza da un campionato all'altro. è vero che non consideravamo e ce ne scusiamo perché magari molti di voi sono e saranno in vacanza in quel periodo e si aspettavano che il Genoa potesse iniziare fuori casa per non perdere una gara a casa ghinga ma non avevamo considerato che Como, Venezia e Atalanta giocheranno le prime tre giornate fuori casa e il Venezia le prime due e la motivazione risiede nel fatto che le strutture o stanno ultimando i lavori per la piena e completa ristrutturazione nel caso dell'Atalanta oppure ci sono dei lavori da fare al Sinigaglia e al Penso per quanto riguarda Como e Venezia per essere a norma per la Serie A e di conseguenza, onde evitare di giocare in campo neutro, queste squadre giocheranno direttamente fuori casa le prime tre giornate. Questo aspetto che riguarda appunto tre squadre su venti ha condizionato anche i calendari quindi il Genoa sì avrebbe dovuto iniziare fuori casa ma essendoci anche degli altri incastri di necessità legati ai calendari e diciamo che il Genoa giocherà in casa alla prima di campionato e sarà contro i campioni di taglia in carica dell'Inter di Simone Inzaghi poi il calendario ovviamente offre tutte le altre partite e nel ringraziare anche Manuel Cavo per essersi occupato assieme a me dell'aggiornamento dell'articolo adesso possiamo vedere il Genoa come vede proseguire il suo calendario intanto diciamo subito che il Genoa avrà un doppio turno in casa tra la terza e la quarta giornata quindi il Genoa subito dal 18 agosto di fatto al 15 settembre nel primo mese di campionato giocherà tre partite su quattro in casa quindi l'anno scorso ricordiamo che il Genoa non aveva mai giocato a parte nel girone di ritorno due partite consecutive in casa e lo aveva fatto solamente nel girone di ritorno poi ci saranno invece due partite consecutive in trasferta quando andiamo a vedere tra la diciottesima e la diciannovesima giornata contro Empoli e Lecce e nel girone di ritorno invece tra la ventitresima e la ventiquattresima giornata quando gli avversari rosso-blu saranno Fiorentina e Torino nel girone di ritorno ci sarà un altro doppio turno casalingo in casa nel caso del girone di ritorno sarà nelle gare con Como e Cagliari quindi tra Como e Cagliari ha un'altra partita che prevedrà che il Genoa giochi due gare consecutive in casa allora dicevo il girone di ritorno ma in realtà il Genoa questa possibilità ce l'avrà solo nel girone d'andata perché nel girone di ritorno non giocherà mai due partite consecutive in casa accadrà solo nel girone d'andata e in entrambi i casi sia tra la terza e la quarta giornata sia tra la dodicesima e la tredicesima il Genoa avrà due turni consecutivi casalinghi con una pausa nazionale in mezzo quindi ci sarà Genoa-Verona alla terza giornata poi pausa per le nazionali poi Genoa-Roma al rientro dalla pausa e alla dodicesima giornata ci sarà Genoa-Como poi sosta per le nazionali e al ritorno in campo Genoa-Cagliari quindi un calendario particolare da questo punto di vista andiamo a vederlo per intero le prime tre giornate le abbiamo in parte già accennate Genoa-Inter il 18 agosto già nelle prossime ore comunque dovrebbe essere comunicato l'orario preciso e il giorno perché c'è la possibilità che si possa giocare anche di sabato 17 adesso non ci sbilanciamo attendiamo il comunicato della Lega Serie A seconda giornata Monza-Genoa il 25 agosto terza giornata Genoa-Las-Verona il primo di settembre poi la pausa per le nazionali al ritorno in campo quattro partite la quarta giornata Genoa-Roma il 15 settembre quinta giornata Venezia-Genoa il 22 settembre sesta giornata Genoa-Juventus il 29 settembre settima giornata Atalanta-Genoa il 6 ottobre poi un'altra pausa per le nazionali al cui ritorno sono in programma cinque partite ottava giornata Genoa-Bologna nona giornata Lazio-Genoa decima giornata Genoa-Fiorentina undicesima giornata Parma-Genua dodicesima giornata Genoa-Como in queste cinque partite quella di mezzo alla decima giornata Genoa-Fiorentina si giocherà mercoledì 30 ottobre sarà l'unico turno infrasettimanale di questa stagione poi dopo Genoa-Como la dodicesima giornata come abbiamo già accennato pausa per le nazionali al ritorno finalmente ci saranno un po' meno pause si andrà dalla tredicesima giornata alla ventinovesima prima di ritrovarsi in un'altra pausa per le nazionali tra l'altro si giocherà anche nelle vacanze natalizie vediamo nello specifico tredicesima giornata Genoa-Cagliari il 24 novembre quattordicesima giornata Udinese-Genua primo di dicembre quindicesima giornata Genoa-Torino 8 dicembre sedicesima giornata Milan-Genua 15 dicembre diciassettesima giornata Genoa-Napoli il 22 di dicembre diciottesima giornata Empoli-Genua il 29 dicembre diciannovesima giornata e ultima del giorno d'andata Lecce-Genua che è in programma il 5 di gennaio giro di boa ventesima giornata Genoa-Parma il 12 gennaio ventunesima giornata Roma-Genua il 19 gennaio ventiduesima giornata Genoa-Monza ventitresima giornata Fiorentina-Genua ventiquattresima giornata Torino-Genua venticinquesima giornata Genoa-Venezia ventiseiesima giornata Inter-Genua ventisettesima giornata Genoa-Empoli ventottesima giornata Cagliari-Genua ventinovesima giornata Genoa-Lecce in programma il 16 di marzo poi ultima quarta ed ultima pausa per le nazionali si torna in campo il 30 di marzo con la trentesima giornata che prevede Juventus-Genua trentunesima giornata Genoa-Udinese trentaduesima giornata Elas-Verona-Genua trentatresima giornata Genoa-Lazio trentaquattresima giornata Como-Genua trentacinquesima giornata Genoa-Milan trentaseiesima giornata Napoli-Genua trentasettesima giornata Genoa-Atalanta trentottesima ed ultima giornata di campionato Bologna-Genua il 25 di maggio ormai gli ultimi tre campionati del Genoa in Serie A sono tutti culminati con Genoa-Bologna o Bologna-Genua anzi in realtà gli ultimi quattro campionati di Serie A comprendendo anche questo perché il Genoa si salvò a Bologna con Ballardini l'anno prima del campionato nefasto che coincise con la retrocessione poi proprio questo campionato che citavo adesso si concluse con Genoa-Bologna in cui non ci si giocava più nulla il Genoa era già retrocesso a Napoli poi campionato di Serie B quest'anno al ritorno in Serie A Genoa-Bologna ultima partita di campionato 2-0 con il gol di Malinowski e la rete di Vitigna e quest'anno sarà di nuovo Bologna-Genua evidentemente il calendario ci ha preso gusto con questa ultima giornata sinceramente è molto probabilmente un record che il Genoa chiuda per la quarta volta in Serie A consecutiva col Bologna in ogni caso le date che vi ho indicato non ve le ho indicate per tutte le giornate perché sono un dettaglio importante ma indicativo perché perché se per le prime tre giornate a breve dovrebbe essere comunicato già con esattezza il giorno e l'orario comunque le altre date sono tutte di domenica per il momento ma non rimarranno tutte di domenica ieri abbiamo accennato ci sono nove slot differenti di orario in cui si giocherà quest'anno una roba incredibile oggi addirittura all'interno della dirigenza della Lega Serie A si è parlato di spezzatino di orari quindi sono tutti perfettamente consapevoli di questo di questo aspetto c'è stata anche una sorta di presa dato che l'anno scorso si è fatta una grande confusione con il discorso anticipi e posticipi addirittura la Lega Serie A aveva comunicato quando avrebbe annunciato anticipi e posticipi da una determinata giornata ad un'altra e non è mai stata rispettata questa data a parte nella prima scadenza sicuramente bisognerà metterci una pezza e crediamo dalle parole che abbiamo sentito dire che l'esigenza e la volontà sia quella tra l'altro la Serie A si è unita ad uno sponsor assolutamente autorevole che è Any Live che ha specificato intervenendo proprio in questa assemblea di apertura della Serie A perché poi oggi è un giorno che di fatto coincide con l'apertura della nuova Serie A insomma di aver sposato questa partnership per mettere al centro i tifosi mettere al centro il pubblico alla fine il calcio è uno sport popolare e come tale deve rapportarsi con il pubblico quindi pianificare per tempo una trasferta non solo per le società ma anche per i tifosi necessita di precisione nel comunicarlo quindi questo ci auguriamo che possa essere un anno di svolta a livello di organizzazione noi volevamo commentare con voi questo calendario infatti sotto i post che diffonderemo sui social e in ogni caso anche attraverso i nostri social abbiamo già pubblicato su tutti i social facebook instagram trez e anche twitter una grafica con tutte le giornate di campionato riassunte in otto slide che potete anche salvare sui vostri cellulari se volete conservarli in modo tale da sapere sempre il genoa con chi giocherà e quando anche lì sono esposte delle date indicative proprio perché ancora non possiamo sapere quando esattamente il genoa giocherà però non appena lo sapremo ovviamente verrà verrà comunicato quindi fateci sapere anche il vostro parere sul calendario del genoa è un calendario forse un pochino più livellato come difficoltà rispetto all'anno scorso l'inizio è sicuramente un inizio impegnativo perché il genoa comunque affronterà subito diverse diverse big l'intra alla prima giornata la Roma alla quarta la Juventus alla sesta l'Atalanta alla settima quindi però poi dall'ottava giornata in avanti ci saranno confronti sicuramente un pochino più abbordabili anche se gli avversari saranno Bologna Lazio Fiorentina ma è anche vero che in quel periodo incominceranno i famosi impegni di Coppa con la nuova Champions League i nuovi format quindi ci saranno tanti aspetti da considerare vedremo poi adesso è facile tracciare un bilancio molto sommario perché ci si riferisce all'andamento allo stato di forma delle squadre dell'anno precedente ma quest'anno cambia tutto ne abbiamo parlato solamente tre allenatori sono stati confermati dall'anno scorso allenatori che allenavano già in Serie A e quindi sono Gasperini Gigardino e Simone Inzaghi anzi Genoa Inter sarà proprio la fotografia di una sfida che rimanda anche alla scorsa stagione perché Simone Inzaghi e Gigardino saranno al terzo confronto dopo la stagione scorsa quindi è un campionato dove cambieranno tante cose tanti equilibri e adesso è veramente molto prematuro poter dire se è un calendario in salita o in discesa a noi sembra un calendario un pochino più livellato con impegni con le grandi non concentrati tutti nello stesso periodo di calendario e viceversa anche gli scontri con le squadre con le quali poi in Genoa si dovrà confrontare per centrare quanto prima l'obiettivo salvezza e poi vedremo con l'andamento del campionato eventualmente ambire a qualcosa di più quindi questo è quello che ci ha detto il calendario di Serie A vi ripeto Genoa-Inter la prima giornata ad oggi è il 18 di agosto la data calendarizzata però a breve sapremo orario e data precisi si potrebbe anche giocare di sabato sabato 17 perché sono previsti due anticipi in quella in quella finestra di gare questo quindi è un aggiornamento dedicato solamente ai calendari più tardi potremmo vediamo anche gli aggiornamenti di giornata aggiornarci con una seconda puntata di giornata su eventuali novità di mercato che però per il momento non ci sono l'unica è quella di Martinez di cui abbiamo accennato in apertura quindi io per il momento vi saluto vi ribadisco commentate scriveteci la vostra sui calendari e se interessati alla questione di abbonamenti la puntata precedente a questa è dedicata quasi esclusivamente a quel tema buona giornata buon giovedì d'Alessio Semino buon calcio a tutti